ragazzi allora come promesso oggi siamo venuti a Livigno però stiamo facendo il passo del forcola 2315 metri e ragazzi la temperatura sono 6 gradi noi chiaramente siamo venuti abbronzati a maniche corte ma no Massimo dai non scherzare su ma la borsa con gli indumenti invernali l'hai portata dai timidi si can I call you baby can you be my friend can you be my lover up until the very end let me show you love oh don't pretend step by my side even when the world is giving in oh don't don't you worry I'll be there whenever you want me I need somebody who could love me at my worst no I'm not perfect but I hope you see my worth cause it's only you nobody knew I put you first and for you girls where I'd do the worst ooh 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 if you stay forever then let me hold your hand allora buongiorno ragazzi siamo a Livigno anche quest'anno tappa Livigno giorni dai 21 perché insomma un giretto a Livigno è sempre bello farlo tra l'altro ho visto anche che il mio amico Big Netto ossia Simone e a lui piace molto venire ho visto negli ultimi video e sembrerebbe che l'anno prossimo fa un bel raduno qua e quindi perché non esserci dobbiamo esserci per forza dai va bene prosegue la gita il mio cane si diverte sempre guardate vediamo se è uscito a vederlo si diverte sempre nei bei prati e nelle gite ciao Grazie a tutti ecco qua ci hanno lasciato fuori andate a vedersi il nicozzi noi ci aspettiamo siamo pronti per gettarci con i gommoni qui sulla pista guardate all'avventura intrepida senza paura c'è anche mia figlia guardate oh noi ci proviamo ecco qua ecco qua ecco qua ragazzi allora dopo questa discesa col gommone vi chiedo se ne avete voglia chiaramente sempre di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per i prossimi video che farò così almeno vi date un po' di stimolo per andare avanti e anche un po' mi rendete insomma felice no contento ciao grazie ciao 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 ciao